Ringrazio i giovani dell'Istituto Universitario Salesiano in Cuba e Radio di Venezia per aver preparato un cammino di avvento ispirato alla parola di Dio di ciascuna domenica e alla lettera enciclica Laudato Si. Grazie. Vi invito a coinvolgere altri giovani e utenti della Rete nella preparazione del Santo Natale, diffondendo anche attraverso i social media di Vatican News la parola di Dio e invitandoli alla cura della Casa Comune. Grazie. Prego per voi e pregate per me.